Sono un piede di Patrizio perché vuol dire che l'ho fatto Allora oggi 15 settembre qui a Misano all'autodomo troviamo la OIS la nuovissima OIS di Orbea l'Ambondella e ho tutti, qui si vediamo al posto a sottotitoli un LA un bel un calore un bel di Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Ciao Giacomo Come stai? Come si sta lì? Andiamo in pista? Con la cargo bike? Come stai lì? Come stai lì? Andiamo in pista? 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 Come stai lì? Andiamo in pista?